Il tema di oggi che tratterò riguarda le sanzioni dell'Unione Europea alla Russia. Prima di entrare nel dettaglio di quelle che sono appunto le sanzioni adottate nell'ambito dell'Unione Europea in confronto della Russia, è necessario fare una premessa su quelle che sono le sanzioni multilaterale e le sanzioni unilaterali. Tale distinzione è necessaria anche per comprendere l'attuale stato di misure restrittive adottate nei confronti della Russia. Per quanto concerne le sanzioni multilaterali sono quelle adottate nell'ambito dell'ONU, dunque di questa organizzazione delle Nazioni Unite che attualmente conta 193 stati membri e dunque le sanzioni adottate nell'ambito dell'ONU sono vigenti in tutti i stati membri. Affinché ciò sia possibile è necessario però che tali sanzioni vengano adottate dal Consiglio di Sicurezza e affinché diciamo sia rispettata la procedura di cui al capitolo settimo della carta ONU, la quale prevede la possibilità con il voto favorevole di nove stati membri di cui i membri che diciamo rappresentano un po' i membri permanenti del Consiglio, tra cui è necessario onoverare la Francia, la Russia, gli Stati Uniti e l'Inghilterra e dunque con il voto favorevole o con il veto da parte anche di un solo stato membro permanente viene impedita l'adozione di quelle che sono appunto le sanzioni o anche l'eventuale autorizzazione di ingresso con la forza armata, mentre le sanzioni unilaterali sono quelli che invece sono adottate nell'ambito diciamo dai singoli stati membri nell'ambito della propria territorialità e le sanzioni unilaterali sono quelle adottate appunto anche dalla stessa Unione Europea che vigono su tutto il territorio dell'Unione e sono dunque direttamente applicabile nei singoli stati membri. Andando nel dettaglio chi sono i stati membri e i valori diciamo da un punto di vista del PIL dei stati che hanno adottato tale misure, essi rappresentano il 19% dei stati mondiali e rappresentano il 59% del PIL. È evidente che si tratta di dati che diciamo di comunque rilevanti che avranno un loro effetto su quelle che sono di quello che è il scenario internazionale. Andando al cuore del mio intervento di oggi che riguarda le sanzioni in ambito europeo e le misure restrittive appunto adottate a seguito dell'invasione della Russia è necessario fare una netta distinzione tra quelle che sono le sanzioni diciamo le misure soggettive di cui al regolamento 2.69 del 2014 e delle sue successive modificazioni e il regolamento 8.33 del 2014 che invece attiene alle misure oggettive. Più in generale le misure soggettive attengono appunto a divieti di viaggio, congelamento di beni, divieto di fornire fondi direttamente o indirettamente a persone fisico-giuridiche oggetto della restrizione. Attualmente le misure restrittive riguardano 191 persone fra cui più di 30 oligarchi e 80 persone giuridiche. È necessario dunque valutare e analizzare costantemente quello che è l'allegato contenuto al regolamento 2.69 così come modificato al fine anche di verificare diciamo l'identità di quella che potrebbe essere la controparte commerciale. Mentre per quanto attiene le misure oggettive più in generale si tratta di sanzioni finanziarie, sanzioni economiche, sanzioni riguardanti il settore dell'energia, del trasporto, del settore tecnologico e delle materie prime. È necessario fare una premessa che si tratta di sanzioni nuove rispetto al passato, si tratta di sanzioni che appunto sono state adottate a seguito del riconoscimento da parte dello stato russo di alcune regioni non controllate dell'Ucraina e a seguito della sua invasione. Si tratta però di appunto misure nuove in quanto nell'ambito europeo sono state sono presenti già sanzioni nei confronti del territorio russo a partire del dal 2014 ovvero a seguito della nessione della Crimea e del mancato rispetto di quelle che erano stati appunto gli accordi di Minsk. Andando nel dettaglio le sanzioni europee vanno a colpire quelli che sono diciamo gli aspetti più sensibili della Russia nonché hanno un grande impatto su quella che è diciamo l'elite governativa o comunque sono soggetti particolarmente vicini al presidente russo. Nel dettaglio le sanzioni europee vengono distinti in cinque pacchetti che appunto è un susseguirsi di misure adottate anche rispetto all'invasione e alla durata dell'invasione dell'Ucraina. Il primo pacchetto adottato nel del 23 febbraio contiene appunto sanzioni soggettive, restrizioni alle relazioni economiche con alcune zone non controllate del governo delle regioni ucraine, restrizioni all'accesso di mercati finanziari e di capitali dell'Unione europea. Mentre il secondo pacchetto attiene invece del 25 febbraio attiene a restrizioni del settore finanziario, energetico, trasporto e tecnologico nonché esportazioni di beni dual use e quasi dual use delle tecnologie dell'aviazione e dell'industria petrolifera. Per quanto riguarda le esportazioni di beni dual use è necessario precisare che si tratta di beni che diciamo possono essere o comunque hanno una astratta applicazione al settore belico, quindi è chiaro capire il motivo di tale divieto, mentre per quanto riguarda il divieto di commercializzazione di beni attenente al settore dell'aviazione si tratta appunto di un settore particolarmente sensibile del mercato russo in quanto la flotta russa, dell'aviazione russa è costruita per i tre quarti nell'Unione europea e per la restante parte negli Stati Uniti e nel Canada e dunque tale restrizione comporterà un grande impatto soprattutto diciamo nel lungo periodo per quanto attiene l'acquisto di nuove aeromobili o comunque di pezzi di ricambio e eventuali revisioni e ispezioni tecniche, quindi si tratterà comunque di un grande impatto sul mercato russo dell'aviazione. Il terzo pacchetto invece è del 28 febbraio del 2022, attiene a un divieto generale di operazioni con la banca centrale, il divieto di sorvolo dello spazio aereo, le nuove sanzioni ad alcune entità, il blocco dell'accesso al sistema SWIFT per sette banche russe e la sospensione delle trasmissioni russe, quale Russia Today e Sputnik. Si tratta di misure in particolare questa della sospensione delle trasmissioni russe al fine di evitare una propaganda o comunque una disinformazione, una distorsione di fatti. Infatti tali mezzi di comunicazione appunto essendo mezzi di comunicazione di massa sono stati utilizzati dal governo russo anche al fine di diciamo distorcere o comunque rappresentare una una diversa realtà di fatti ehm legate prenderemo in seguito il eh divieto di nuovi investimenti nel settore dell'energia, restrizioni commerciali per prodotti siderurgici e beni di lusso e altre eh sanzioni nei confronti eh di persone e eh diciamo entità giuridiche. Infine è necessario fare un riferimento a quello che è il quinto pacchetto che è diciamo l'ultimo pacchetto ad oggi adottato che eh risale l'otto aprile del eh duemila e ventidue e eh comporta un divieto di importazione di carbone, un divieto di accesso ai porti dell'Unione Europea, un divieto di eh di accesso al territorio dell'Unione Europea per i trasportatori su strada russi e belorussi, il divieto di eh importazione di altri beni eh quale legno e cemento, si tratta di beni che come vedremo in seguito eh rappresentano un po' eh diciamo il settore eh che va per la maggiore eh diciamo del del territorio russo e il divieto di eh esportazione di eh altri beni. Si parla del sesto pacchetto. Si tratta di un pacchetto che attualmente è in sede di eh revisione e approvazione della commissione. Mh ovviamente eh si tratterà appunto di una eh di un pacchetto qualora viene eh verrà adottato da parte della commissione ehm avrà una sua rilevanza in quanto si parla di mh diciamo di un embargo su quello che è il petrolio e il gas che eh ad oggi appunto non sono stati adottati per il eh veto del del espresso dalla dall'Ungheria. Eh è evidente dunque eh il grande impatto economico che eh si eh realizzerà e e dunque dovremo attendere eh la sua eh adozione da parte della della commissione. Eh andando nel dettaglio di quelle che sono appunto le eh misure restrittive adottate nell'ambito dell'Unione Europea eh il regolamento otto tre tre del duemila e quattordici che come precisato poc'anzi attiene a quelle che sono le misure restrittive oggettive e eh come modificato da i vari regolamenti adottati e i regolamenti di esecuzione prevede un ehm diciamo un divieto di trasferire o esportare direttamente o anche indirettamente prodotti eh anche non originale dell'Unione a qualsiasi persona fisica o giuridica mh o per un uso in Russia o comunque di nazionalità russa. Si tratta di eh prodotti eh come eh precisato prodotti legati appunto al al settore bellico e quindi prodotti di all use o quasi dual use, settore dell'energia, trasporti e navigazione, prodotti di lusso su cui torneremo e bene utile per il rafforzamento delle capacità industriali. Eh è necessario precisare che eh seppur eh seppure il regolamento prevede eh tale eh divieto di eh esportazione di beni rientranti in tale macro categorie allo stesso tempo il eh regolamento prevede una serie di deroghe. Deroghe che appunto occorre valutare caso per caso a seconda dei eh di eventuali eh restrizioni o beni che cadono in tale eh restrizioni al fine di verificare se il eh regolamento prevede anche eventuali deroghe. Eh ho fatto eh due diciamo esempi eh di eh deroga al divieto. L'esempio preso in considerazione eh i prodotti sono i prodotti dual use o quasi dual use in cui eh il regolamento fa salva eh le l'esportazione effettuati in esecuzione di un contratto che sia stato concluso prima del ventisai febbraio o di contratti che siano eh accessori a tale eh contratti conclusi. E eh si tratta comunque di una deroga che eh deve comunque rispettare alcuni criteri requisiti quale appunto l'autorizzazione da eh richiedere a un'autorità a ciò eh preposta. Andando eh nello specifico di eh di quelli che sono i beni di lusso, beni di lusso che eh come eh anticipato rientrano nel eh divieto di esportazione e oggetto del quarto pacchetto di sanzioni adottate nell'ambito dell'Unione Europea per eh prodotti di lusso occorre fare riferimento a quello che il ehm allegato diciotto del regolamento otto tre tre del duemila e quattordici così come diciamo modificato. Per beni di lusso eh si intende a ai sensi del dell'allegato del citato regolamento eh vini e sfumanti eh tartufi eh profumi cosmetici prodotti di bellezza per il trucco per etteria, seleria e articoli eh da viaggio, borsetti e altri articoli simili di eh comunque di altissima qualità eh cappotti, giacchi e calzature indipendentemente dal materiale, perle, petripeziose e articoli di gioielleria. Si tratta di beni che comunque sono sottoposti a una soglia, tale soglia viene fissata eh in trecento euro per articolo, sono salve però anche in questo caso delle deroghe. Deroghe che possono eh consistere sia eh diciamo della necessità di esportare tale beni per una sorta diciamo di cooperazione nel contesto di una cooperazione culturale ufficiale con la Russia o eh sono necessari a scopi ufficiali di missione eh diplomatica o consolari. Sono invece previste eh soglie più alte per quanto invece riguarda eh le moto, i veicoli, eh i strumenti eh musicali e gli apparecchi elettronici. Si è posto però il eh problema di come si calcola eh tale eh valore e in specie qui eh ho preso mh in riferimento la soglia dei trecento euro che diciamo è un po' la soglia che eh contiene la eh macrocategoria di bene salvo le eh varie diciamo eh ipotesi eh specificatamente eh previste nella legato. Sul punto stante ehm diciamo le difficoltà interpretative legate al valore ehm la Commissione europea eh la Commissione europea eh nel Q&A del due maggio del duemilaventidue ha specificato che tale soglia di valore deve essere valutata al suo valore statistico. Valore statistico che viene definito nella legato cinque della sezione eh decima del regolamento di esecuzione uno uno nove sette del duemilaventi il quale eh specifica che tale valore statistico è definito quale eh il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate o esportate escludendo eventuali eh valori fettizi nonché negli altri casi il prezzo che si sarebbe eh dovuto pagare in caso di vendita o di acquisto. Si tratta però di un eh valore ehm che deve essere retificato un valore che deve essere retificato su quelle che sono eventuali spese accessorie. Accessorie quale spese di trasporto e di assicurazione che ehm diciamo devono essere eventualmente eh sostenute per consegnare le merci dal luogo di eh partenza fino al luogo di diciamo eh frontiera dello stato membro di esportazione nel caso di esportazione e fino alla frontiera dello stato membro di importazione nel caso di importazione. Mentre per quanto attiene all'articolo la commissione europea nel Q&A sempre del due maggio del bimilaventidue ha eh inteso che tale valore mh diciamo ehm deve essere inteso quale ehm valore per articolo e per articolo si intende l'imballaggio abituale utilizzato per la vendita al dettaglio e dunque viene fatto un esempio eh di un cofanetto di contenente tre profumi se venduti insieme o un profumo singolo se si intende venderlo separatamente. Si tratta eh evidentemente di eh diciamo ehm circostanze che devono essere attentamente valutate al fine di eh evitare di incorrere eventuali eh sanzioni. Per quanto eh riguarda invece gli aspetti eh diciamo corporate societari il regolamento eh detta eh alcuni eh articoli eh in particolare eh l'articolo tre bis e il cinque bis bis il primo di quali attiene all'acquisto o comunque ehm all'aumento eh della propria partecipazione in persone giuridiche eh diciamo di diritto russo o eh di qualsiasi altro paese eh terzo che però sia operante nel settore dell'energia così come il divieto di concedere eh prestiti o comunque eh finanziamenti a eh persone giuridiche o entità eh costituiti secondo il diritto russo o secondo un altro diritto di uno stato terzo e operante eh nel settore sempre d'energia e eh da ultimo più in generale servizi di investimento eh direttamente connessi a tale attività. Quindi sono stati appunto eh colpiti il eh il settore dell'energia che appunto è un settore eh particolarmente forte dell'industria russa. Per quanto invece riguarda l'articolo cinque bis bis, il suo vieta eh di effettuare direttamente o anche indirettamente le operazioni con una persona giuridica o un'entità che sia ehm diciamo indicata nell'allegato diciannove di quella regolamento 883 2014 così come modificato entità che eh sono eh diciamo individuate quale entità eh di eh diritto russo e particolarmente eh vicine al governo. Quindi sono eh vietate qualsivoglia eh tipo di operazione. Tuttavia anche qui il ehm il regolamento prevede una deroga a tale divieto eh precisando che il divieto non si applica fino al quindici maggio si tratta appunto di un termine già del corso per i contratti conclusi prima del sedici marzo o contratti accessori necessari diciamo per la sua esecuzione. Andando eh nella pagina successiva vengono indicati quelle che appunto sono le eh entità eh oggetto di restrizione di quell'articolo cinque bis bis eh possiamo soffermarci su quello che è il Gazprom Net che appunto è una società eh attiva nel settore eh petrolifero ehm società che è anche eh detenuta dal Gazprom che invece è il colosso eh mondiale del diciamo dell'energia e del gas. Accanto a tale restrizioni ehm diciamo indicate nel regolamento 833 del 2014 così come modificato è necessario altresì tenere in considerazione quello che invece il regolamento due s9 del 2014 che invece recca quelle che sono le misure soggettive e dunque evitare mettere direttamente o anche indirettamente infatti occorre eh fare eh specifica attenzione a a quelli che sono anche le operazioni indirette eh e dunque ai sensi del articolo due del citato regolamento è vietato eh mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche indicate nell'allegato. Qui ehm vi ho riportato anche un link eh che potete appunto consultare al fine di eh verificare anche eh diciamo se eventualmente la la controparte commerciale russa eh tra quelle indicate eh nel 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 relativo ehm elenco o comunque eh indirettamente collegata a tale persone. E da ultimo ehm è necessario fare riferimento invece a quella che eh a quelli che sono due normi di chiusura. Anzitutto ai sensi dell'articolo dodici del regolamento otto tre tre è evitato partecipare consapevolmente e intenzionalmente ad attività avente l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti. Dunque viene fatto un eh divieto generale di ehm effettuare una illusione di quelli che sono i divieti e eh da ultimo eh l'articolo tredici dello stesso regolamento il quale precisa che tali divieti hanno applicazione nel tutto territorio dell'Unione Europea quindi un'applicazione territoriale nel nell'ambito appunto dei dell'Eurozona e a qualsiasi cittadino eh di uno Stato membro ma anche a qualsiasi persona giuridica che si trove all'interno o all'esterno dell'Unione eh europea ma che sia stata costituita o comunque registrata secondo il diritto di uno Stato membro e eh altresia a qualsiasi persona giuridica che eh opera interamente o parzialmente nell'interno all'interno del eh territorio unionale. Eh infine ehm il regolamento prevede anche un eh divieto eh per quanto riguarda eh la partecipazione o comunque l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico legato con eh una controparte russa anche qui il divieto prevede una eh deroga mh a tale misura restrittiva precisando che eh tali divieti non si applica eh all'esecuzione ai contratti che appunto hanno esecuzione fino al dieci ottobre del duemilaventidue che si e che sia siano stati conclusi prima del nove aprile del duemilaventidue. Ehm ho ritenuto interessante fare eh diciamo un'applicazione concreta alcune applicazioni concrete di quelle che sono le misure restrittive legate al settore di beni di lusso che ricordiamo mh vi rientrano i profumi di lusso eh i prodotti di bellezza e eh per il trucco. Tuttavia prima di fare un'applicazione concreta è necessario eh fare alcune considerazioni. Anzitutto è necessario precisare che ehm sebbene eh alcune misure restrittive non sono state eh diciamo non coinvolgono eh tutti i settori merciologico ehm tuttavia eh vi sono aziende che per eh ragioni etiche e eh diciamo eh di eh valori hanno deciso di eh allontanarsi dal eh mercato russo e dunque occorre eh valutare anche eventuale eh questione di corporate identity così come anche eh quelli che sono eh le difficoltà di pagamento e eh soprattutto anche le difficoltà interpretative legate alle alle misure restrittive di quei regolamenti in quanto eh richiedono una eh valutazione eh necessaria di più testi normativi quindi tante volte può anche essere non agevole capire se effettivamente eh il bene eh che si intende esportare o importare eh costituisce eh oggetto di una misura restrittiva. Andando nel eh diciamo ad una applicazione concreta eh ho preso in riferimento un contratto di compravendita o di fornitura di prodotti di bellezza quindi prodotti oggetto di restrizione che sia stato concluso eh tra un paese membro dell'Unione quindi mh soggetto a quelle che sono le restrizioni oggetto del del regolamento con la controparte russa dopo il 15 marzo del 2022 e dunque dopo l'introduzione del regolamento che modifica il regolamento 833 del 2014. Innanzitutto eh è necessario verificare che i prodotti che si intende eh diciamo esportare eh sono eh classificati o meno in quelli eh oggetto dell'allegato di quel regolamento e eh prendendo eh quale appunto esempio che tali prodotti rientrano in quelli che sono i prodotti di bellezza che sono classificati con il codice qui indicato è necessario valutare come appunto viene anche qui eh indicato ehm valutare eh una eh eventuale eh superamento della soglia del prezzo di 300 euro che appunto è un la soglia del prezzo indicato per i prodotti di bellezza nel ehm nell'allegato del regolamento 833 del del 2014 ehm è necessario mh diciamo è raccomandabile eh consultare costantemente quello che è il portale dell'agenzia delle dogane e in particolare appunto la banca dati Taric qui vi ho lasciato un eh link che vi porta direttamente alla pagina eh dell'agenzia delle dogane al fine di verificare in sede di appunto di esportazione sia eventuali beni eh oggetto di un contratto di compravendita fornitura stipulato sia o meno oggetto di restrizione andando eh nella pagina successiva troviamo invece un altro esempio diciamo ehm eh che attiene a un contratto sempre qui di compravendita fornitura anche qui prodotti di bellezza oggetto di restrizione concluso però da una società con sede in Europa con la controparte extra per esempio Cina, Turchia e il Kazakhstan che però dovranno transitare seppur eh diciamo in via temporanea sul territorio russo sul punto si è espressa la commissione in quanto ehm si è trattato di un diciamo una difficoltà eh un problema interpretativo del regolamento ha precisato che eh non vi è nessun divieto a tale tipo di operazione a condizioni però che tali prodotti non abbiano come destinazione finale o effettiva eh destinazione finale ed effettiva eh una persona fisica o giuridica eh russa o che siano destinate a un utilizzo in Russia quindi sono eh vietate eh le triangolazioni e dunque è necessario prestare molta attenzione a tali tipi di operazioni dirette o indirette. Inoltre la commissione europea raccomanda di sottoporre l'attenzione di controparte eh la sottoscrizione di una liberatoria da qualsivoglia responsabilità nel caso in cui i prodotti che appunto sono oggetto di un contratto con la controparte extra eh diciamo non eh russa eh siano poi eh successivamente importati o comunque utilizzati in Russia in quanto eh è eh comunque ehm necessario tenere in considerazione che è vietato qualsiasi partecipazione consapevole e intenzionale ad attività che hanno come l'obiettivo o come effetto illudere quelli che sono i divieti del regolamento. Eh nella pagina successiva ho preso come riferimento invece un contratto anche qui di compravendita di prodotti di bellezza concluso tra un paese UE con la controparte russa prima dell'introduzione dei divieti e con prodotti che sono state già importate in Russia. Sul punto la commissione europea mh ha fornito i necessari chiarimenti specificando che tale sanzioni eh trovano applicazioni anche nei confronti di tali beni ehm a condizione però che si tratta appunto di prodotti che vengono commercializzati da eh soggetti UE mentre non trovo applicazione mh nel caso in cui i prodotti sono stati importati da una controparte russa e sono dalla stessa eh commercializzati sul territorio russo. Ciò eh appunto si giustifica su quelle che sono le ehm l'applicazione territoriale delle stazioni eh europee che ovviamente non 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 possono andare eh oltre il territorio unionale. Eh andrò eh qui velocemente visto che il tempo a mia disposizione sta per scadere. Eh il eh regolamento prevede anche una serie di ehm diciamo di di viete all'importazione della Russia. Qui eh è necessario richiamare eh quelli che sono appunto i eh i prodotti che rappresentano un po' il core business del ehm dell'industria russa russa quale appunto il caviale, il caviale, i pneumatici e il legno. Anche qui sono previste delle deroghe ehm dando la possibilità quindi all'esecuzione di quei contratti che sono stati stipulati prima del 9 aprile e che eh comunque vengono eseguiti entro il 10 eh luglio del 2022. L'Unione Europea coordina le sanzioni con altri partner eh la risposta è sì e ehm lo fa eh sia eh diciamo eh con un coordinamento diciamo mirato o mediante appunto una task force eh con altri paesi del del G7 ma anche eh se si analizzano quelli che sono le sanzioni effettivamente adottate degli altri partner tra cui appunto gli Stati Uniti è ehm diciamo è possibile eh evidenziare una ehm una certa eh sintonia infatti per quanto attiene eh attengono alle sanzioni eh dell'Unione degli Stati Uniti è necessario fare eh riferimento a eh agli ordini esecutivi presi dal presidente ehm il tredici sei sei zero e eh seguenti nonché al codice federale all'articolo trentuno del paragrafo eh cinque otto nove. Si tratta di eh misure in larga parte eh diciamo eh simili a quelle che troviamo nell'ambito dell'Unione Europea quindi misure restrittive e soggettive e misure restrittive oggettive che colpiscono i ehm le operazioni eh economiche e finanziarie eh con ottantatre entità ehm diciamo finanziarie russe tra cui cinque banche eh più importanti nonché il congelamento un po' come avviene anche nell'ambito del dell'Unione Europea di tutti i beni presenti sul territorio del degli Stati Uniti e ehm diciamo più in generale ehm qualsiasi eh nuovo investimento nella federazione russa da parte di un eh di una persona fisica o giuridica statunitense. Anche qui eh al fine di ehm permettervi una consultazione eh sempre aggiornata vi ho lasciato il link che vi porta al eh diciamo al al sito ufficiale del Dipartimento del Tesoro che appunto è il eh dipartimento eh preposto ad adottare le eh sanzioni nell'ambito ehm internazionale. Le sanzioni dell'Unione Europea rientrano nell'ambito e eh sono conformi al diritto internazionale? La risposta è sì. Tutte le sanzioni ehm dell'Unione Europea sono pienamente conformi agli obblighi derivanti dal diritto internazionale e rispettano quelli che sono i diritti umani e le libertà eh fondamentali. Si tratta di eh sanzioni che più propriamente misure restrittive che vengono adottate sotto la forma del regolamento o di decisione del Consiglio e che sono eh vincolanti eh per qualsiasi persona fisica o eh giuridica del Unione e dunque anche indipendentemente eh dal loro eh dalla loro mancata attuazione da parte di stati dei singoli stati membri. Come vengono applicate le sanzioni in Italia? È necessario distinguere tra quelle che sono le eh violazioni delle misure eh restrittive soggettive e misure restrittive oggettive in quanto nel primo caso si avrà una sanzione amministrativa mentre nel secondo caso una sanzione eh penale mentre per quanto riguarda il divieto all'importazione ehm stante appunto la mancata indicazione di quelle che eh potrebbero essere le eventuali sanzioni eh da adottare eh si ipotizza un'applicazione mh diciamo analogica di quelle che è la legge sul contrabbando. Cosa fare? Cosa fare nel caso in cui eh ci si trova di fronte a una controparte russa che eh eventualmente è eh oggetto di una misura restrittiva eh soggettiva o eventualmente l'oggetto che intendiamo mh esportare o importare è oggetto di eh restrizione. È necessario effettuare una due diligence soggettiva sulle controparti russi e belorussi infatti occorre ricordare che eh oltre ad essere stata sanzionata diciamo lo Stato russo eh sono state sanzionate anche alcuni eh soggetti legati ehm alla Bielorussia e inoltre è necessario effettuare una due diligence oggettiva sulle merci e sui eh servizi forniti per un eh utilizzo in Russia o comunque nei confronti di eh soggetti eh persone fisiche o giuridiche di nazionalità russa con la particolare attenzione a quelle che sono anche eventuali eh triangolazioni ed infine è necessario altresì effettuare una due diligence su quelli che sono i contratti in essere al fine di verificare eh quale sono gli effetti derivanti da eventuali eh misure restrittive e come tali misure restrittive possono incidere e eh eventualmente la possibilità di applicare eventuali eh clausole eh IVI contenute. Per quanto riguarda eh le eh contromissure della federazione qui vi ho eh riportato alcuni dei eh provvedimenti adottati ehm mi soffermerei su quello che è il decreto trecento undici eh trecentododice e trecentotredici del nove marzo del duemilaventidue il quale appunto ehm contiene un elenco di quelli che sono i eh beni oggetto di ehm restrizione da parte del governo russo per una loro eventuale esportazione nei confronti dei soggetti ostili. I prodotti eh rincompresi in tale elenco ehm sono stati diciamo individuati nel legno. Anche qui vediamo come tale eh divieto di esportazione eh dal territorio russo eh risponde un po' a quella che è la risposta data dall'Unione Europea all'invasione. Quindi troviamo il il legno, i motori, i frigoriferi. Qui vi ho riportato una serie di esempi ovviamente l'elenco è più ampio e mh qualora avete necessità sono ovviamente a vostra disposizione per trasmettervi eh tale elenco. E da ultimo eh è interessante soffermarci sul decreto del presidente della federazione russa del tre maggio del duemilio ventidue il quale ehm diciamo ehm autorizza alle eh persone fisiche e eh giuridiche russe di ehm di adempere anche a quelle che sono le eventuali obbligazioni con eh diciamo derivanti da contratti già conclusi ma che ancora non sono stati ehm eseguite. Si tratta di un eh decreto che eh attiene appunto messure eh economiche speciali che devono essere attentamente eh valutati e più in generale vi è previsto un divieto di effettuare qualsiasi operazione con soggetti ostili, divieto appunto di adempere le obbligazioni qualora ancora in eseguite derivanti da contratti già conclusi con soggetti ostili e eh divieto di esportare direttamente o indirettamente i prodotti ehm provenienti dal territorio russo. Inoltre eh sussiste un eh divieto che invece è applicabile a tutti i soggetti anche eh diciamo non eh indicati in tale eh elenco di soggetti ostili ehm autorizzazione anzi eh divieto eh applicabile eh nei confronti delle controparti eh controparti eh dell'Unione eh di eh corrispondere un anticipo superiore al trenta per cento qualora eh rappresenterebbe appunto un corrispettivo per i contratti commerciali di bene e servizi conclusi. E eh in questo caso eh è consigliabile la consultazione costante di quello che è l'elenco eh redato dal governo russo e aggiornato su eh base periodica. Io eh avrei eh concluso e sono qui eh a vostra disposizione per eh eventuali eh chiarimenti o non so curiosità. Grazie. Grazie Alina. Mi sentite adesso? Perfetto. Adesso ti sentiamo. Lasciamo le domande. Ci sono delle domande in chat le lasciamo alla fine. Sì. Non so se scusatemi ancora adesso sono tra un telefono e un computer e non faccio più prove perché per fortuna funziona. E non so Andrea forse diciamo fatta la parte russia possiamo dare continuità e chiusura alla parte anche lato banca perché poi il mio argomento si sposta un po' in un'altra direzione forse mi verrebbe da dire senza voler del tutto alterare la scaletta. Se siete d'accordo se no comincio io insomma. No a me va benissimo se se faccio il mio intervento perché comunque sarà cercherò di essere breve e avere un taglio particolarmente diciamo operativo. Allora buongiorno a tutti intanto eh io sono Andrea Motali lavoro per il servizio internazionale della Banca Popolare di Sondrio eh da circa una ventina d'anni e tra l'altro mi occupo di relazioni con controparti eh estere tra cui alcune banche anche anche russe. Ehm procedo a condividere due slide e il mio intervento di oggi al di là di fare una minima nel senso carrellata delle sanzioni eh in questo caso eh esclusivamente sulla Russia visto che comunque eh conflitto l'Ucraina sul settore delle aziende che oggi partecipano al webinar eh è più interessato appunto dalle sanzioni da dell'Unione Europea da parte della nei confronti della Russia ehm e non non mi dilungherò diciamo su su aspetti relativi a Bielorussia piuttosto che contromisure del del della Russia nei confronti dei paesi ostili eh e spiegherò in realtà quello che la banca verifica quando un cliente gli presenta un'operazione in modo che eh l'azienda possa evitare di trovarsi delle sorprese quali per esempio aver effettuato un'operazione e poi vedersi stornare il il pagamento perché è esposto la banca ha deciso di non di non accettarlo. Allora. Credo che stia ancora condividendo qualcuno il lo schermo. No ok ce lo faccio adesso. Sì? Se metti la modalità. Riuscite a vedere la prima. Adesso è perfetto, adesso è perfetto, ottimo. Perfetto, allora niente non mi dilungo molto perché chi mi ha preceduto è già stato ha già ampiamente trattato il il tema. Comunque eh ho riportato nella presentazione per comodità dei 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 di chi poi la utilizzerà magari in seguito quelli che sono il le normative di riferimento eh emesse dall'Unione Europea nelle sanzioni nei confronti della Russia eh principalmente sono due regolamenti uno che va a eh colpire eh determinate controparti quindi eh delle sanzioni a carico di determinati soggetti e l'altro quelle che va a colpire la tipologia di eh beni che si possono importare o desportare nei confronti del paese. Sostanzialmente cosa succede? Questo impianto sanzionatorio eh come potete vedere dal nome del regolamento dal dal nome del regolamento parte nel duemilaquattordici e eh è in buona sostanza stato eh sostanzialmente integrato e modificato eh come tutti potete ben sapere anche semplicemente dalla stampa con una serie di di eh di interventi eh che vengono che sono stati emanati di volta in volta e spendo solo due parole in relazione a questo eh questa diciamo eh regolamentazione di guerra cioè fatta comunque con una certa diciamo velocità eh per rispondere dei requisiti di eh di eh politica di 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 geopolitica eh hanno portato a un regolamento con eh molto complesso che eh soprattutto anche a livello finanziario poi l'interpretazione del mondo bancario ha portato soprattutto in fase iniziale a delle difficoltà interpretative di quello che poteva effettivamente essere fatto o non essere fatto non tanto quanto alla tipologia di merci che può essere importata e esportata ma tanto a a al fatto di eh a a chi vanno applicate le restrizioni soprattutto soggettive e poi spiego perché in ambito di eh misure di congelamento fondi a carico di determinati soggetti e quello che può essere fatto a livello finanziario quindi eh alcune delle sanzioni introdotte hanno limitato sostanzialmente anche poi il mondo dei pagamenti e parlo brevemente delle eh sanzioni soggettive quindi le sanzioni soggettive sono sanzioni che poi acquiscono determinati soggetti e eh nel quotidianità di un contratto cosa può essere eh diciamo eh influente per 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 l'attività che sto facendo determinati soggetti persone fisiche eh persone giuridiche eh istituti di credito e una serie di eh oligarchi che a cascata eh vedono sanzionata anche tutto quello che è il mondo industriale che sta sotto quindi eh qual è la principale attenzione da 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 prestare eh al fatto che non mi basta fare una verifica eh se l'azienda con cui sto sottoscrivendo un contratto eh è sanzionata o meno e con termine sanzionato intendo sottoposta misure di congelamento di risorse economiche ma in realtà come già avvenuto per altri paesi negli anni soggetti alle sanzioni faccio un esempio per esempio dell'Iran eh bisogna andare un po' più a fondo e quindi andare a vedere chi è eh che controlla la società eh andando ad acquisire eh documentazione inerente alla compagine sociale i soci e quelli che sono lì eh nominativi apicali eh del gruppo industriale perché perché comunque ci sono una serie di nominativi membri della Duma piuttosto che oligarchi che eh la sanzione al vertice comporta l'impossibilità di lavorare con una sostanziale eh numero di aziende che ovviamente sono collegate per quanto riguarda le sanzioni oggettive quindi quelle che sono eh relative a a all'attività import export anche qui ho portato per comodità un 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 riepilogo e chiaramente durante i vari pacchetti delle sanzioni da parte dell'Unione Europea sono stati introdotti differenti eh restrizioni non vado a eh non vado a a ripeterle perché si è già trattato ampiamente questo questo tema erano previste delle vero che è un periodo di grandfathering per portare a termine i contratti eh che eh diciamo ormai a a questo punto sono quasi già giunti tutti a a al termine nella fattispecie i beni eh la restrizione all'export dei beni di lusso che includono eh chiaramente l'attività dei cosmesi e e profumi non prevedeva già dal momento dell'entrata in vigore del del della della sanzione una salvaguardia temporale quindi da subito non era più possibile effettuare eh l'attività di export nel momento in cui eh è entrata in vigore la sanzione e il bene ricadeva all'interno delle specifiche casistiche faccio eh un un sottolineo una cosa che mi avvio è molto importante eh sono previste chiaramente delle sanzioni per chi viola i regolamenti eh l'impianto sanzionatorio dell'Unione Europea eh prevede delle sanzioni di carattere amministrativo per chi viola le sanzioni soggettive quindi per chi mette a disposizione risorse economiche a soggetti eh sanzionati eh mentre invece prevede delle possibilità di carattere di sanzioni di carattere penale anche a carattere penale a carico di chi esporta merci vietate quindi eh l'embargo verso la Russia dico embargo in modo inappropriato comunque le sanzioni eh verso la Russia eh vanno a mio avviso considerate in modo un pochino più eh differente rispetto a quelle per esempio che 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 ben conosciamo su altri paesi quali faccio sempre l'esempio dell'Iran per quale motivo perché in questo caso abbiamo visto che sia le associazioni eh industriali italiane che le autorità hanno adottato una un un approccio molto più rigido lo stesso diciamo Confindustria ha eh denunciato direttamente eh la presenza di molte aziende che hanno tentato di raggirare le sanzioni eh andando ad esportare indirettamente prodotti vietati in questo caso non parliamo di prodotti chiaramente pericolosi eh piuttosto che che possono essere usati per la proliferazione di eh armi piuttosto che per per lo sviluppo di di armi atomiche e quant'altro qua è stato deciso politicamente che a un certo paese non dobbiamo dare più niente e anche le autorità hanno dato un segnale dicendo che anche se esportate profumi anche se esportate cosmetici non lo potete fare e se ci sono delle sanzioni i controlli saranno diciamo più sicuramente più stretti e più fitti rispetto a quelli che possiamo eh aver visto negli anni passati nei confronti di altri paesi quindi anche se trattiamo dei beni che sono dei beni che in qualsiasi altro paese non abbiamo mai avuto alcun tipo di problema teniamo in considerazione che eh soprattutto se parliamo magari di eh di mercati che non non coprono non hanno nemmeno un valore considerevole diciamo per l'attività di un'azienda magari eh tra le varie attività export non è un quantitativo significativo considerate quelle che sono i rischi a cui andate incontro se decidete comunque di eh dar corsa a un'esportazione magari passando tramite un paese terzo mettendo di mezzo una una società di trading noi come banca abbiamo visto eh molte situazioni eh o meglio situazioni proposte dalla clientela che sulla carta non che ha tentato di nascondere la banca intendiamoci eh aziende che hanno tentato di portare a termine dei contratti in settori eh diciamo a basso rischio colpiti dalle sanzioni eh coinvolgendo altre controparti e facendo fare un giro differente diciamo alla merce ecco questo era solo un un suggerimento che mi sento mi sento di eh di dare per quanto riguarda eh lo specifico incontro di oggi eh cosa fa la banca? La banca quando ci troviamo di fronte a operazione export di eh prodotti di di lusso eh va a verificare quella che chiaramente è la nomenclatura doganale perché perché in questo caso il regolamento dice che eh va verificata la classificazione doganale della tipologia dei beni e qui come già detto eh se il valore eh del singolo articolo è superiore ai trecento euro eh la banca si rifiuta di dar corso all'operazione perché ritiene che l'operazione non sia eh non sia diciamo conforme. Per quale motivo non dà corso all'operazione non perché ehm eh il motivo il motivo per cui la banca non può dare corso all'operazione è che al di là del divieto di vendere fornire trasferire esportare questi prodotti c'è anche all'interno della struttura del regolamento il divieto di fornire assistenza finanziaria in relazione a queste operazioni quindi il fatto di gestire una transazione effettuata commerciale la transazione finanziaria di un'operazione commerciale in violazione delle sanzioni pone la banca stessa in violazione delle sanzioni motivo per cui eh chiaramente ciascuna operazione oggi viene valutata caso per caso e sottoposta a a due diligence e quindi come già detto se i vostri beni rientrano all'interno di questa classificazione vengono esportati con queste eh nomenclatura doganale andrà fatta una attenta analisi per capire se eh il prodotto che noi andiamo a vendere per tipologia di prodotto sia di lusso o meno eh e quindi abbia un certo valore e possa essere o meno esportata. Confermo che oggi tra i nostri clienti abbiamo ehm delle società che continuano hanno continuato ad esportare eh prodotti che sono ben al di sotto della soglia dei 300 euro per articolo quindi eh confermo che comunque la possibilità di lavorare c'è eh e e la banca eh chiaramente eh valutando le varie operazioni da supporto alla alla clientela. Per quanto riguarda le sanzioni oggettive abbiamo sempre poi eh un'altra serie di attività eh di divieti all'import di cui non menziono perché non credo che sia di particolare interesse perché è già stato oggi e perché è già stato eh ampiamente trattato eh nel precedente intervento anche qui rappresa delle deroghe eh è un periodo di 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 grandfathering eh che ho riportato in parte a ciascuno diciamo della specifica sanzione. Un'altra restrizione che è stata introdotta dal quinto pacchetto e che eh chiaramente va molto ad incidere sul sull'attività di un'azienda è proprio quella della eh restrizione al settore dei trasporti perché chiaramente eh il divieto di accesso ai porti dell'Unione e eh l'accesso a qualsiasi diciamo trasportatore russo eh all'interno del territorio dell'Unione pone anche delle eh problematiche e delle difficoltà eh nel poi effettivamente eh spedire la merce quindi questo qui è è chiaramente un 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 qualcosa che ha è venuto nuovamente a a introdurre ulteriore difficoltà a chi eh sta cercando di 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 portare a termine diciamo continuare la propria la propria attività con il paese. Vado a quelle che sono le sanzioni finanziarie. Eh vanno distinte ehm tra tre tipologie che eh in fase iniziale diciamo quindi eh febbraio marzo avevano senso oggi un po' meno perché perché le sanzioni eh erano state introdotte in modo progressivo e inizialmente erano state identificate soltanto alcune banche eh che erano diciamo completamente sanzionate quindi soggette al congelamento di bene o risorse. Eh mentre invece alcune altre banche sono state scollegate da Swift pur non essendo eh state sanzionate eh e poi esistono anche altri tipi di di restrizioni finanziarie. Qual è la la sostanziale differenza? La sostanziale differenza è che le banche eh con cui i nostri clienti eh possono operare che sono soggette ai congelamenti di bene e risorse non possono essere più utilizzate per fare i pagamenti. Per quale motivo? Perché nel momento in cui i fondi di proprietà di queste banche entrano in Europa sono automaticamente congelati. Eh quindi la prima banca che li riceve li congela. Eh va anche tenuto in considerazione che eh se ci sono delle operazioni, dei regolamenti di operazioni eh regolamento finanziario di un'operazione commerciale che è stata conclusa in periodo decisamente antecedente la sanzione della della banca eh piuttosto che eh la la restrizione sulla specifica tipologia di merce eccetera eccetera anche se una transazione viene eh congelata c'è la possibilità di chiedere la comitata di sicurezza finanziaria e lo scongelamento. Eh i presupposti sono quelli che ho detti che la transazione è stata conclusa completamente in via antecedente. Potrebbe essere il caso per esempio questo di operazioni eh di clientela che magari vende a dei termini di pagamento differiti al cliente o magari delle operazioni gestite con una lettera di credito che prevedeva il il pagamento differito a tre o quattro mesi. Eh si è parlato tanto di scollegare dal sistema SWIFT questo è un è un è uno strumento eh di 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 sanzioni diciamo che è stato eh adottato mh tra le prime volte diciamo almeno nella mia nella mia carriera eh di bancario nei confronti dell'Iran quindi scollegando le principali banche questo è un qualcosa che a livello finanziario ha un impatto molto sostanziale. Perché? Perché anche se una controparte non è colpita eh da misure di congelamento ehm il fatto di essere scollegata dal sistema SWIFT inibisce di fatto la possibilità di operare a a livello bancario. E perché è così impattante? Perché? Perché le sanzioni eh di eh le sanzioni eh soggettivi nei confronti di un soggetto possono essere emesse come già detto semplicemente da un uno specifico paese. Prendiamo l'Unione Europea. Questo non vieterebbe alla a una banca russa sanzionata di eh continuare a regolare operazioni finanziarie tramite il sistema SWIFT eh per esempio con un paese che non ha emesso le sanzioni. Mettiamo eh ad esempio la Cina. Eh il fatto che la società SWIFT che è una società che fornisce eh appunto servizi di messaggistica finanziaria specializzata eh autentica tra il sistema tra il sistema bancario diciamo eh sia europea e eh sia stata diciamo eh costretta a a scollegare queste controparti da SWIFT. Come il queste banche eh scollegate da SWIFT sono completamente inibite dalla possibilità di operare perché non possono più mandare istruzioni autentiche di pagamento non possono mandare più eh non possono mandare più eh eh gestione di di messaggistica autenticata per lettere di credito garanzie piuttosto che qualsiasi altra tipologia di di eh di transazione. Ci sono poi altre istituzioni finanziarie che non vanno a impattare in modo significativo su quella creatività dell'azienda perché? Perché sono limitazioni alla all'emissione di strumenti del mercato finanziario, altre tipologie di investimento eh vedete per esempio all'interno di questa lista dell'Unione Europea eh alcune banche molto importanti quale per esempio Alfa Bank, Sberbank, Gazprom che Alfa Bank è una delle principali banche private eh Gazprom è una delle eh è la banca dalla quale viene regolato tutto il flusso del del eh del gas che viene importato in Europa quindi eh sono sicuro acquita da sanzioni ma eh è possibile e vi confermo che arrivano quotidianamente pagamenti. Sberbank eh è una delle banche che eh potenzialmente potrebbe entrare essendo la prima banca del paese molto importante eh potrebbe rientrare all'interno delle sanzioni del eh sesto pacchetto e chiaramente questo avrà eh un un nuovo diciamo sostanziale eh impatto sul sul l'attività bancaria perché comunque c'è un flusso decisamente significativo di eh incassi che riceviamo dalla Russia e originati appunto da da Sberbank. Considerate che Sberbank ha già avuto delle sostanziali difficoltà eh perché eh già nelle prime settimane successive all'introduzione della sanzione eh tutto quello che era il sistema Sberbank filiali controllate in Europa è praticamente andato in default. Sberbank Europe su Francoforte è andata in default era la banca che gestiva tutti i flussi finanziari del gruppo eh oggi Sberbank è già stata anche tagliata fuori completamente dal dollaro quindi eh oggi vediamo che eh settimanalmente eh i flussi finanziari cambiano eh magari ne parlerò ne parlerò successivamente quando parliamo un po' più in dettaglio del degli aspetti finanziari perché comunque è necessario avere delle banche corrispondenti che facciano queste transazioni e eh le principali banche europee eh stanno decidendo progressivamente di uscire dal mercato eh e quindi c'è sempre più difficoltà comunque a ricevere eh pagamenti anche di operazioni che sono del tutto e per tutto lecite. Ehm altre tipologie di sanzioni finanziarie ehm non credo che siano di particolare rilevanza su quello che stavamo dicendo. Eh faccio un un breve diciamo escurso su quelle che sono le sanzioni che sono state fatte per eh i territori occupati del Donbass e della Crimea. Ehm se abbiamo della eh delle aziende che comunque eh continuano a commercializzare con 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 l'Ucraina va tenuta in considerazione di effettuare una verifica che eh l'attività import o export non eh non sia con controparti che sono basate in questo in queste diciamo regioni perché c'è di fatto un blocco pressoché completo della dell'attività import ed export eh si eh si ha a che fare con aziende che sono basate in queste in queste regioni. Eh quindi è buona cosa verificare questa cosa non solo se facciamo eh una transazione direttamente ma anche se la facciamo indirettamente sappiamo che la merce possa finire in in Ucraina o sia di origine Ucraina. Faccio una brevissima menzione ad alcuni delle sanzioni degli Stati Uniti eh anche perché gli Stati Uniti emettono praticamente quotidianamente degli aggiornamenti dell'estensione del general license piuttosto che nuove nuove sanzioni. Anche qua gli Stati Uniti hanno fatto una serie di restrizioni merceologiche eh restrizioni a carico di determinati soggetti e delle restrizioni finanziarie. Cosa è importante sapere eh per l'azienda eh italiana eh che esporta in 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 un paese colpito dalle sanzioni? Oggi comunque eh le sanzioni degli Stati Uniti e del e dell'Unione Europea sono eh molto allineate nei confronti di questo paese. Mentre invece eh la situazione non era questa nel caso eh per esempio delle sanzioni di confronti dell'Iran dove eh l'Unione Europea pressoché non ha alcun tipo di sanzione mentre invece gli Stati Uniti hanno reintrodotto una serie di sanzioni molto eh pesanti che hanno vincolato molto l'operatività anche degli operatori europei seppure l'Unione Europea non avesse messo alcun tipo di di restrizione su determinati controparti e settori. Eh a differenza di questo diciamo sulla Russia invece le 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 sanzioni sono sono decisamente molto più allineate al di là di eh più controparti sanzionate magari sulla sull'aspetto finanziario eh piuttosto che sui vari soggetti. Eh cosa dobbiamo tenere in considerazione? Dobbiamo eh tenere in considerazione che se nella mia attività io mi creo quello che possiamo definire uno US Nexus io devo prestare attenzione anche a quelle che sono le sanzioni degli Stati Uniti quindi eh facciamo eh due due semplicissimi esempi eh se io eh compro rivendo piuttosto che eh ho una sostanziale quota di contenuto di merce usa all'interno dei prodotti che vado a vendere quindi sostanziale nella Russia è ancora il venticinque per cento io devo prestare attenzione anche quelle che sono le sanzioni messe dagli Stati Uniti qualora differenti dall'Unione Europea perché perché comunque sono passibile di eh di 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 aver violato la 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 le le sanzioni eh americane e ah avendo diciamo una connessione diretta con eh con il paese dovuto per esempio a contenuto del della della merce eh mi espongo alle sanzioni. Un'altra casistica potrebbe essere quella della divisa. Io ho delle operazioni che sono tranquillamente gestibili secondo quella che la regolamentazione europea è regolata in euro decido di effettuare il pagamento in dollari eh non ho verificato bene e eh la banca beneficiaria o una banca intermediaria è sanzionata dagli Stati Uniti e non dall'Unione Europea. Cosa succede? Succede che molto probabilmente la vostra banca vi ferma se perché perché chiaramente non è così semplice diciamo eh andare a a di effettuare un pagamento verso un soggetto sanzionato. Al di là di questo cosa potrebbe succedere se la banca non si accorge? Che io ho fatto un bonifico o sto per ricevere un bonifico e eh finisce su una banca americana perché essendo in dollari regola come banca corrispondente sulle Stati Uniti e i soldi vengono congelati e noi non non li vediamo più. Eh per quanto riguarda invece le sanzioni soggettive vale lo stesso discorso eh anche qui eh i soggetti negli Stati Uniti vengono messi all'interno di questa SDN list eh è un po' più semplice la verifica del 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 controllo indiretto perché viene applicato il principio del possesso controllo con una percentuale superiore al al cinquanta per cento. Qui ho riportato per comodità quelle che sono le sanzioni eh finanziarie a carico del sistema bancario russo da parte dei Stati Uniti come potete vedere rispetto alle otto banche eh dell'Unione Europea ce n'è una un sostanziale numero maggiore quindi le eh il congelamento fondi da parte dei Stati Uniti alle controparti finanziarie è decisamente più eh più 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 importante in questo momento rispetto a quello dell'Unione Europea. Ehm anche qui banche società e sezioni finanziarie sono delle limitazioni come già detto a eh all'attività sui mercati dei capitali. Riporto per vostra conoscenza anche quelle che sono eh le sanzioni emesse dagli UK eh perché perché anche qui eh queste parlo sempre di restrizioni finanziarie quindi congelamento fondi nei confronti di determinate banche perché perché anche qui come vedete il numero delle banche è maggiore quindi c'è qualche banca in più rispetto all'Unione Europea di quelle che sono colpite delle sanzioni dagli UK. E cosa può influire questo nella mia attività eh che vendo o che compro con la Russia? Eh se vado a coinvolgere una controparte di questo paese quindi se si pensa di usare la sterlina per fare delle operazioni attenzione perché va allo stesso discorso fatto prima per il dollaro. Eh piuttosto che eh dobbiamo considerare che seppur dopo la Brexit il mondo finanziario si è spostato diciamo da da Londra verso eh altri capitali europei Parigi, Francoforte piuttosto che ehm in 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 Irlanda. Eh ci sono ancora delle banche corrispondenti che fanno eh diciamo servizi di tramitazione per le banche russe che sono in UK quindi anche qui va prestata una un'attenzione su su questo specifico aspetto. Ho quasi terminato questo era un po' il panorama generale quindi cosa suggerisce la banca alla clientela che vuole eh effettuare operazioni con un paese sanzionato in generale e oggi lo diciamo questo in generale vale per qualsiasi tipo di sanzione tenendo in considerazione quello che abbiamo già detto per per la Russia. Innanzitutto il l'accordo il suggerimento principale è chiedete prima la banca nel senso che avete delle operazioni in corso e dovete incassare eh prima di dar corso a completamento dei contratti chiedete alla banca se l'operazione è per loro elegibile per gestire la per essere incassata perché perché questo vi evita spiacevoli sorprese come per esempio un rifiuto nel gestire la la transazione. Detto questo cosa bisogna verificare? Bisogna verificare tre cose cioè quello che abbiamo detto eh a chi vendo cosa vendo e come lo incasso quindi oggettiva verifichiamo quelli che sono i rischi eh in connessi a quello che io sto vendendo quindi come ho già detto i beni possono essere esportati perfetto non sono eh non sono sanzionati piuttosto che rientrano all'interno del eh delle limitazioni delle restrizioni eh ok eh ci sono eccezioni per il mio prodotto eh sì allora bene non ce ne sono non c'è niente da fare eh c'è un periodo di grandfathering posso concludere determinati contratti eh entro un determinato periodo sì allora si entra nel merito quindi ecco quindi una verifica su quello che stiamo vendendo c'è un contenuto americano magari allora do un occhio anche a quello a chi vendo questo sulla Russia è un tema eh importante di impattante perché perché come già detto le restrizioni eh la sanzione o soggetto eh è una sanzione di congelamento di risorse economiche e di vieto di messa a disposizione di beni e o risorse economiche quindi cosa vuol dire che al di là del congelamento delle risorse economiche e qui è un qualcosa che impatta per esempio sul banca che ha i conti di un soggetto e congela i saldi piuttosto che eh un'azienda che ha sottoscritto un contratto ha cominciato a produrre ha la merce in casa magari anche già pagata quindi dico eh da esportarsi alla controparte non non può esportarla perché non può mettergli a disposizione eh risorse economiche è come se l'azienda dovrebbe dovesse congelare i beni che ha eh già pagati dal 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 proprio cliente eh teniamo in considerazione quello che è eh l'aspetto del direttamente o indirettamente perché la raccomandazione europea parla di messa a disposizione direttamente indirettamente ma senza precisare quella che è eh la percentuale del 50 per cento quindi c'è un'ampia eh analisi di fatta su quello che viene inteso per eh controllo o possesso di una controparte quindi anche qui eh tramite la banca che vi darà sicuramente supporto eh si acquisiscono i dati eh sulla controparte per capire se non il soggetto a cui stiamo vendendo direttamente ma magari anche un soggetto apicale eh è soggetto a queste misure di congelamento e poi l'aspetto finanziario quindi capire quelli che sono eh i rischi connessi al 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 coinvolgimento di controparti sanzionate come abbiamo già detto c'è la possibilità che vengano eh congelati eh dei fondi eh c'è la possibilità che il cliente non sia più in grado di pagare eh c'è tutta una serie di difficoltà oggi credo che una delle difficoltà principali è il fatto che eh se stiamo esportando verso il paese e abbiamo verificato che possiamo esportare nostra merce a un determinato soggetto eh incontriamo delle difficoltà e delle delle dei ritardi nel nell'incasso uno dovuto a le verifiche che le banche fanno non soltanto la banca beneficiari ma anche le banche che sono coinvolte nella transazione eh piuttosto che il fatto che eh fino a eh settimana scorsa faccio un esempio eh eh Commerce Bank eh gestiva un significativo flusso di pagamenti nei confronti di Sberbank eh da inizio di questa settimana abbiamo visto eh stornare i pagamenti quindi sia pagamenti che ne facciamo verso la Russia nei confronti di Sberbank vengono stornati piuttosto che chiaramente i pagamenti originati da Sberbank non possono essere ricevuti questo perché perché come ho detto prima ci scontriamo contro una politica eh imprenditoriale di una banca privata che a un certo punto dice in previsione delle sanzioni di Sberbank eh esco dal mercato o non mi espongo a eh a potenziali rischi di violazione perché non sono in grado di controllare eh tutto quello che passa su questo su tutti i flussi finanziari che passano su di me quindi questo è un po' eh il il riassunto di quello che 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 mi sento di consigliare faccio semplicemente due menzioni al al rublo perché tante aziende ci hanno chiesto se c'è possibilità di incassare o pagare in rubli abbiamo visto un'evoluzione in questi mesi molto vivace diciamo nell'attività col rublo eh chiaramente inizialmente abbiamo visto un blocco totale eh blocco totale perché comunque eh era di fatto impossibile trovare qualche controparte che eh controparte bancaria che acquistasse eh acquistasse rubli eh nei confronti di altre divise per poter permettere alla banca di eh negoziare diciamo il rubro nei confronti dell'euro e poter eh poter magari diciamo accreditare il conto in euro di un cliente. Noi abbiamo avuto delle esperienze negative nel corso dei mesi scorsi in cui eh abbiamo provato effettuare delle operazioni che non sono andate a buon fine eh perché motivo? Anche perché inizialmente non era ben chiaro quella che era la posizione eh proprio eh della Russia eh nei confronti della gestione della 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 specifica divisa. Oggi eh è possibile effettuare pagamenti ed è possibile ricevere incassi in questa divisa con non poche difficoltà ma comunque caso per caso la banca può valutare per quelle che sono transazioni eh commerciali. Ci sono una serie di limitazioni delle transazioni finanziarie eh che potrebbero essere che ne so il pagamento di dividendi, ripagamenti di da controllate, il pagamento di di prestiti e quant'altro che rendono di fatto ancora abbastanza eh ingestibile transare in 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 rubli. Eh oggi il valore del rublo è molto apprezzato anche rispetto a prima dell'inizio della guerra perché eravamo attorno all'ottanta e oggi ci aggiriamo intorno a un cambio di di 67 e 68. Eh comunque se qualcuno avesse avesse necessità di valutare un'operatività nella divisa anche qui eh prima di dare istruzione a un cliente di pagare eh in questa divisa è buona cosa verificare con la banca che eh il canale bancario che viene indicato per la specifica operazione funzioni e sia effettivamente possibile incassare. Perfetto grazie Andrea. Passo la parola a Giovanni a questo punto per la sua parte e le conclusioni. Allora mi sentite vero? Sì perfetto. Il mio problema abbiamo come dire invertito ogni logica e regola. Con un suo senso comunque. Con un ottimo senso. Al di là di tutto diciamo visto che questo appuntamento era stato fissato addirittura l'anno scorso ancora proprio per diciamo gestire la tematica Russia. In prossimità diciamo di di questi eventi così concomitanti eh la scelta ovviamente è stata quella di dare un taglio un po' più ampio anche perché eh come è stato detto da chi mi ha preceduto eh di fatto la delicatezza l'importanza di eh diciamo di eh ovviamente adesso il PowerPoint mi si è bloccato l'importanza eccolo l'importanza della di della situazione internazionale impone grandi cautele siamo di fronte anche a scelte che vanno al di là del business e vanno anche all'interno diciamo di di scelte vere e proprie di possibile corporate identity e e quello insomma che la nostra la nostra ehm la nostra azienda vuole comunicare e vuole e vuole in qualche modo riuscire a eh trasmettere direi a chi a chi sta intorno a chi sta intorno a noi ehm vedete la mia presentazione adesso? Sì mi pare che adesso stia partendo anche se oggi non è non è giornata. La mia presentazione è legata a un tema insomma un po' più ampio rispetto a chi mi ha preceduto. Immagino che il grande interesse di chi oggi si è eh presentato diciamo la nostra ehm al nostro incontro fosse certamente quello di avere degli strumenti e delle indicazioni legate principalmente al tema di come gestire eventualmente il mercato russo. Tuttavia il paradosso direi potrebbe essere questo. Sul mercato russo non c'è dubbio che ci sia enorme attenzione e necessità di rinsaldare quelle partnership storiche esempio tra il nostro studio e la banca popolare di Sondrio proprio per guardare le singole sfaccettature. Ossia se io oggi affronto il mercato russo ho consapevolezza sarebbe strano il contrario delle difficoltà che devo incontrare quindi dell'estrema tecnicità delle scelte che io devo andare a eh affrontare. Stiamo facendo lo stesso con riferimento agli altri mercati ossia ehm ci rendiamo conto che la situazione internazionale è legata non solo direi alla alla guerra in in Ucraina ma anche a tutto ciò che in questi anni si è sommato la guerra, la pandemia, la Brexit, il rincaro delle materie prime ci sta facendo effettivamente eh fare tutte le attività di cui ehm che che sono di fatto necessarie per eh gestire con serenità appunto i mercati internazionali. Quindi questo mio intervento che eh va verso la conclusione di del diciamo di questo di questo seminario ehm si sposta dalla Russia non del tutto ma ovviamente anche a livello eh macro per quel che riguarda appunto la gestione degli altri rapporti contrattuali. Eh questo perché? Perché la congiuntura internazionale richiede una particolare attenzione alla gestione dei rapporti contrattuali. Come ho detto sono avvenuti talmente tanti e tali eventi che in questo momento storico è necessario riflettere proprio sulla modalità di gestire il nostro business internazionale da un punto di vista contrattuale e giuridico. Cosa sta succedendo? Come possiamo fronteggiare le situazioni in corso? Qual è di fatto l'evento che più fortemente in questo momento sta condizionando i nostri contratti? Diciamo che sono due. Da una parte sono come dire eh sopraggiunte delle impossibilità di di diciamo effettuare alcune prestazioni. Impossibilità di effettuare queste prestazioni per esempio perché il prodotto è sanzionato o per esempio perché quel particolare tipo di eh gran turco che si trova unicamente in Ucraina non è sostituibile e non sta arrivando o dall'altra parte ragioni evidentemente di eh totale oscillazione dei prezzi dei nostri contratti dovuti a rincari di materie prime piuttosto che a rincari di trasporti piuttosto che anche a nuovi dazi doganali. Come fronteggiamo queste situazioni che si presentano? bisogna di fatto distinguere tra i contratti che sono già in essere e i contratti che andiamo a invece stabilire da qua in avanti. Attenzione nel momento in cui noi dobbiamo fare una valutazione sui contratti che abbiamo in essere dobbiamo partire da una valutazione dei contratti stessi ma presto spostarsi a verificare cosa prevede la legge applicabile a quei contratti. Lo diciamo sempre quando quando facciamo queste presentazioni del polo della Cosmesi ma insomma un po' un cavallo di battaglia molto spesso le nostre aziende non fanno i migliori contratti del mondo molto spesso le nostre aziende si limitano ancora a gestire un export legato a componenti di ordine conferma d'ordine al massimo delle condizioni generali quando questi elementi spesso non sono competitivi nel mercato internazionale non sono di fatto sufficienti a garantire alle nostre aziende una tutela effettiva contrattuale. Detto ciò nel momento in cui io abbia un tema quindi arriva da me un'azienda che mi dice avvocato io ho un problema perché l'acciaio che vendevo a 100 adesso costa a me 120 quindi non è che ho perso il margine ma andrei in perdita che cosa posso fare? La prima cosa che risponderà evidentemente un avvocato sarà verificare qual è il rapporto contrattuale che è in essere quindi verificare cosa le parti si sono dette si sono scritte quali sono i criteri rispetto ai quali le parti hanno negoziato. Sui contratti e su quali possono essere le clausole più significative torno in un secondo momento quando valutiamo invece i rapporti futuri. Quello che mi pare estremamente interessante lo è sicuramente per un avvocato ma credo che abbia una ricaduta pratica anche con riferimento a evidentemente l'uditorio di oggi è che tutto ciò che non è previsto contrattualmente e nel nostro caso come dicevo di aziende italiane molto spesso tutto ciò che non è previsto contrattualmente è tanto nel senso che molto spesso il rapporto contrattuale è regolato in maniera estremamente esile senza aver conto di particolari attenzioni e questioni si deve considerare qual è la legge applicabile al rapporto perché di fatto ogni volta che noi non abbiamo stabilito qualcosa soccorre il fatto che comunque una legge nazionale in quel momento diciamo disciplina determina quello che noi non avevamo stabilito. Attenzione che molto spesso se noi non non verifichiamo la legge applicabile e eventualmente la deroghiamo in via contrattuale creiamo delle situazioni proprio per questi meccanismi del diritto internazionale di assoluto squilibrio faccio il caso più frequente che mi capita di affrontare una società italiana compra da un'altra società italiana e vende a una società straniera in questo momento se non disciplina diversamente i termini di garanzia contrattuale tra la società italiana e la società italiana sono sempre diversi per legge dei termini di garanzia tra la società italiana e la società straniera quindi potrebbe accadere che io compro un prodotto da una società io sono una società di Firenze compro un prodotto da una società di Milano a quella non specifico la garanzia la garanzia che si applica è un anno e otto giorni per la denuncia dei vizi nel momento in cui io rivendo quel prodotto una controparte turca per l'applicazione di una convenzione internazionale che è la convenzione di Vienna che è richiamata dalla legge turca non vi faccio tutto il giro ma il turco avrà addirittura due anni di decadenza per denunciare il vizio e un termine ragionevole per avviare l'azione quindi io potrei trovarmi dopo un anno e mezzo con il turco che avanza delle pretese legittimamente e io che non ho più la possibilità di come dire contestare quello stesso vizio che non ho creato io nei confronti del soggetto che mi ha venduto della società famosa di Milano quindi attenzione perché questa sottovalutazione è importante nel momento in cui io ho una legge nazionale applicabile al rapporto questa legge nazionale applicabile al rapporto tendenzialmente è la legge di colui che effettua la prestazione caratteristica sempre che non lo abbia come vi ho detto tra le varie clausole contrattuali posso scegliere anche la legge applicabile se non la scelgo si applica una legge nazionale quale legge nazionale si applica si applica in questo caso quasi sempre la legge di colui che effettua la prestazione caratteristica quindi forse nel momento in cui c'è una vendita si applica la legge nazionale nel momento in cui c'è una agenzia si applicherà la legge della gente ma restiamo sulla vendita nel momento in cui si applica la legge nazionale come vi dicevo prima non si applica solo la legge nazionale si applica anche tutte le normative internazionali che quella legge richiama motivo per cui rispetto all'esempio che vi ho appena fatto siccome sia l'Italia che la Turchia sono parte della convenzione di Vienna io compro dalla società di Milano sottoposto alla legge italiana vendo la società turca sottoposto alla convenzione di Vienna penso che sia chiaro o spero che sia chiaro in realtà come dire è molto tecnico quindi evidentemente richiede diciamo una valutazione caso per caso una sui rapporti in essere bisogna valutare la legge applicabile su cittorno bisogna come dicevo valutare le convenzioni internazionali bisogna gestire i pagamenti ma su questo diciamo chi mi ha preceduto avvia già secondo me fatto capire la complessità e l'importanza di questa di questa materia e bisogna gestire evidentemente il contenzioso sui rapporti in essere faccio una macro distinzione faccio una macro distinzione perché perché in questo periodo storico si sta aprendo una frattura fondamentale e importante tra i paesi di civil law e i paesi di common law voi direte abbiamo già tante fratture al mondo eh chiamo anche questa cosa vuol dire questo al di là delle battute che i paesi di civil law quelli che hanno il codice civile l'Italia la Francia la Germania rispetto ai paesi di common law cioè l'America e l'Inghilterra hanno forse lo sapete è una questione culturale piuttosto interessante un sistema di diritto completamente diverso alcune cose sono simili rispetto ad alcuni principi che si applicano alcune cose sono molto diverse tra le cose molto diverse che ci sono cioè il fatto che mentre nei paesi di civil law vige un principio che si chiama rebus extantibus nel paese di common law vige un principio che si chiama pacta sunt servanda cosa vuol dire per farla molto semplice abbiamo detto che nel contratto si può scrivere di tutto dopo dopo che nel contratto si è scritto di tutto si può invece applicare la legge nazionale abbiamo detto che la legge della prestazione caratteristica quindi in questo caso se siete italiani tendenzialmente sarà la legge italiana ma poniamo caso che invece avete un rapporto in cui che è sottoposto alla legge inglese o perché siete degli acquirenti o perché dall'altra parte avete stabilito per contratto che quel rapporto a quel rapporto si applica la legge inglese cosa vuol dire questo ci sono evidentemente delle conseguenze e ci sono delle conseguenze importanti e specifiche con riferimento alle situazioni attuali abbiamo detto le situazioni attuali possono essere situazioni che si chiamano così giuridicamente di impossibilità sopravvenuta della prestazione o situazioni di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione l'impossibilità vuol dire che non si può più fare quella prestazione per un certo periodo per lo meno l'eccessiva onerosità vuol dire che quella prestazione di per sé è una prestazione che mi costava uno e mi è diventato dieci ora in linea generale i paesi di civil law quindi la legge italiana la legge francese prevedono il principio rebus extantibus quindi vista l'incidenza degli eventi che stanno succedendo la legge di per sé supera la volontà delle parti e in qualche modo specifica dei meccanismi che evitano la responsabilità per l'inadempimento cioè io non posso più forniti la merce io non posso più dartela a quel prezzo sono responsabile o no con i mille distingo che andiamo a fare velocemente i paesi di civil law dicono attenzione no perché la legge tutela le parti indipendentemente dal loro accordo i paesi di common law che invece sono secondo un principio di pacta sun servanda hanno degli impatti enormemente inferiori del diciamo di temperamento da parte della legge di quelli che sono gli accordi tra le parti quindi se voi avete un rapporto sottoposto alla legge inglese tendenzialmente nemmeno una causa di forza maggiore può farvi andare indenni dalla responsabilità per un adempimento quello che dico subito che mi sembra e dopo torno sulle sulle altre questioni fondamentale in questo momento è la questione però soprattutto nei paesi di civil law perché anche questo principio nei paesi di common law o nell'applicazione delle normative di common law è meno stringente è la questione del canone di buona fede cosa vuol dire lo sappiamo tutti bisogna comportarsi in maniera trasparente la legge tutela colui che si comporta in maniera trasparente colui che fa il lo chiamano gli inglesi il best effort cioè colui che nel momento in cui dice io ho un rincaro dell'acciaio faccio fatica a trovarlo perché lo compravo a Lazzle Staff che purtroppo è il teatro di questi giorni così dolorosi questo non significa che io non abbia un onere di andare a contrattare con i cinesi di andare a contrattare con i turchi di andare a contrattare con i brasiliani con gli americani con chiunque altro per cercare in qualche modo di comunque trovare il materiale il più velocemente possibile al miglior prezzo e contemporaneamente se io ho dei problemi con le consegne con tutto bisogna comunicarlo quindi dovete comunicare 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 tutte le cause che in questo momento vi possono impedire ostacolare rendere più gravosa l'esecuzione della vostra obbligazione fatelo da soli fatelo attraverso i legali che in qualche modo riescono comunque a farvi le lettere si spera scritte nel modo corretto per evitare scusate l'espressione di darvi troppo la zappa sui piedi però il concetto è è un momento storico in cui ci sono dei fatti di tale entità che però dovevano essere gestiti con buona fede e la buona fede perlomeno nei paesi di civil law è un criterio assolutamente fondamentale vado veloce perché i temi sono tanti e comunque vorrei lasciare un pelo di spazio anche per le domande finali che ne avevo già visto forse un paio prima l'impossibilità sopravvenuta può derivare da caso fortuito la forza maggiore o da factum principis esempio oggi le sanzioni o se vi ricordate il factum principis vuol dire come dire un provvedimento dell'autorità la forza maggiore invece è il caso fortuito sono un po più simili e danno a che fare con eventi tipo il temporale il terremoto l'incendio la guerra eccetera il factum principis è attenzione l'unione europea ti impedisce d'ora in poi di fornire questo bene factum principis quindi la decisione del principe l'impossibilità derivante da questi elementi quindi avevo la mia fabbrica ma è saltata in aria per la guerra avevo la possibilità di fornire il mio cosmetico ma non posso più farlo perché è sanzionato fa venire meno non l'inadempimento nel senso che tendicamente io non posso dare il prodotto alla mia controparte che sia russa che sia cinese che sia turca che sia italiana ma io non sono più responsabile quindi davanti a un giudice il fatto che io non abbia effettuato la mia prestazione non comporto la mia responsabilità l'impossibilità deve essere sopravvenuta nel senso che io prima contrattualmente mi impegno e poi arriva l'impossibilità questo è importante perché oggi come oggi come erano i tempi della pandemia noi non possiamo una volta che uno prendeva un ordine durante la pandemia non poteva più dire scusate c'è la pandemia perché c'era anche prima una volta che uno prende un ordine adesso come sono i mercati adesso con i costi adesso dei mercati non può più dire scusate c'è un'oscillazione troppo forte dei prezzi perché in questo momento è una certezza oggettiva cioè indipendente da una situazione personale o patrimoniale debitore questo cosa vuol dire anche se qua di nuovo o come dire gli avvocati so che ce n'è anche qualcuno tra il pubblico sono molto curiosi di questo tema perché diciamo storicamente non si può mai dire che c'è un'impossibilità sopravvenuta di un'obbligazione di pagamento penso che sia chiaro il concetto ci può essere un'impossibilità sopravvenuta di fornire il grano perché il grano non c'è più ma un'impossibilità di fornire denaro non c'è mai perché il denaro tendenzialmente è un bene continuamente fungibile anche sul grano dopo torno ma ve lo spiego meglio ma è per farvi capire la responsabilità deve essere oggettiva nella misura in cui non si può dire io non ti posso pagare è vero però che in questo momento per esempio potrebbe esserci un'impossibilità oggettiva di ricevere un pagamento dalla Russia assoluta tale da escludere anche la minima possibilità di eseguire la prestazione è per questo che vi dico che il grano è un esempio fino a un certo punto perché io potrò sempre fornire del grano a patto che il mio contratto non sia fornire quel tipo di grano di quel tipo di qualità che si coltiva solo in quel posto in cui in questo momento c'è la guerra non si può arrivare però e questo è il concetto importante quando diciamo nel dialogo comune si dice c'è una causa di forza maggiore le cause di forza maggiore o di impossibilità cioè una delle caratteristiche dell'impossibilità sopravenuta della prestazione sono rarissime sono molto rare siamo quasi sempre nell'ambito dell'eccessiva onerosità perché quasi mai c'è un'impossibilità assoluta abbiamo detto dei pagamenti però magari come vi stavo dicendo in questo momento mi verrebbe da dire che non c'è sui pagamenti perché come ha detto bene Andrea prima qualche banca sta ancora operando e in generale un avvocato così un po' lezioso potrebbe anche dirvi anche si potrebbe pagare in qualche modo che non sia attraverso le banche però l'impossibilità sopravenuta non c'è quasi mai voi quando fate le vostre lettere ai vostri fornitori non dovreste usare l'impossibilità sopravenuta e i suoi strumenti perché è molto rara c'è stata durante il covid nel senso che se io per tre settimane non potevo produrre perché lo stato mi diceva non puoi accendere i forni della della tua officina quella era chiaramente un'impossibilità sopravenuta come vedete però oggi lo scenario è diverso per noi potrebbe esserlo per una controparte ucraina che si trova in una situazione di guerra o di bombardamento l'impossibilità sopravenuta può essere come si diceva col covid temporanea o definitiva temporanea implica una sospensione dell'obbligazione o una diciamo definitiva venir meno dell'obbligazione se viene meno l'interesse della controparte a ricevere quella prestazione anche qua in tempi di covid abbiamo avuto un sacco di esempi magari per esempio per quel che riguarda i prodotti reperibili alimentari fiori può essere totale o parziale nel senso che può essere che colpisca l'obbligazione solo in parte l'impossibilità sopravenuta come vi dicevo sospende o estingue l'obbligazione ma esenta da responsabilità l'eccessiva onerosità invece anche questa deve verificarsi successivamente la conclusione deve verificarsi prima che il contratto abbia avuto esecuzione non deve rientrare nella normale alea contrattuale nel senso che se l'oscillazione del prezzo del 3 per cento del 4 per cento è un discorso se l'acciaio triplica di valore è un altro discorso deve dipendere da eventi straordinari imprevedibili anche qua penso che sia un concetto che capisce il debitore non deve essere in mora ho scritto due volte ma per refuso e non perché sia importante il debitore non deve essere in mora cosa vuol dire io non è che dopo sei mesi che non ti fornisco la merce posso dire adesso c'è il problema del rincaro delle materie prime quando l'eccessiva onerosità è tale da alterare l'equilibrio contrattuale e anche questo è tutto da vedere può consentire di risolvere il contratto ma io posso chiedere la risoluzione alla mia controparte la controparte può chiedermi la negoziazione e dirmi vabbè voglio sono d'accordo andiamo avanti ti posso imporre di rinegoziare non posso essere io venditore a imporre alla controparte di rinegoziare questo perché è importante diciamo specificarlo perché non esiste al momento nel nostro ordinamento un onere di rinegoziare tra le parti può essere un diritto di chi subisce la risoluzione di un contratto divenuto eccessivamente oneroso ma non è un onere io non posso andare dal giudice con un mio contratto e dire giudice questo prezzo non va più bene fallo tu al di là del fatto che a me farebbe un po' accaponare la pelle ma questo non posso farlo anche se in realtà devo dire che qualche tendenza in questo senso la stiamo vedendo pensate a tutti i contratti di locazione in permanenza di covid stanno cominciando ad arrivare delle decisioni di un giudice che dice questo prezzo non è più congruo e in qualche modo interviene cioè la tendenza per cui il principio fondamentale che le parti sono libere e sovrane e una volta che hanno deciso il prezzo questo può essere qualsiasi prezzo anche se è ingiusto in qualche modo sta andando in un via di mitigazione non tutti i contratti si può applicare si può applicare i contratti esecuzione periodica si può applicare i contratti esecuzione differita ai contratti non aleatori nel senso se io ho una compravendita chiaria cioè se io ho una fornitura che prosegue nel tempo posso invocare questo questo un appalto posso invocare questa questa eccessiva onerosità non sempre non se io ho una vendita spot quindi penso che sia chiaro abbiamo dei rapporti in essere dobbiamo vedere cosa c'è scritto nei contratti dobbiamo vedere quale c'è la legge applicabile dopodiché se siamo nel nostro ambito di civil law qualsiasi cosa noi abbiamo scritto nei contratti la legge comunque può mitigare gli effetti sia nel senso della impossibilità sopravvenuta molto rara ma in alcuni casi ci può essere sia nel caso dell'eccessiva onerosità come vi dicevo nei paesi di common law il principio è diverso e ci sono due dottrine che non sono né la forza maggiore e quindi l'impossibilità sopravvenuta né l'eccessiva onerosità sono le dottrine della frustration e dell'impraticability ma sono due dottrine come vi dicevo che soccorrono molto poco rispetto alla forza maggiore per cui tendenzialmente se voi avete un contratto sottoposto alla legge inglese quale che sia rincaro dei beni quale che sia eh una situazione in cui è bruciata la fabbrica che doveva fornirvi quella componente e quella componente la fa solo quella fabbrica lì al mondo voi comunque siete tendenzialmente responsabili questa tendenza più alla civil law questa tendenza un po' più morbida è molto ben scritta nella convenzione di Vienna la quale appartengono anche i paesi di common law giusto per farvi ancora un po' più di confusione ma la convenzione di Vienna che è tendenzialmente se non esclusa la convenzione internazionale che regola le vendite internazionali prevede al suo interno dei meccanismi di mitigazione importante del contratto che si applicano autonomamente e un tema che appunto colpisce molto gli avvocati penso però possa essere chiaro è che anche l'inadempimento del terzo causato da forza maggiore viene tenuto in considerazione quindi non rileva solo il rapporto tra le due parti ma si può anche chiaramente chiamare in causa un terzo cosa che è un po' più difficile diciamo rispetto ad altre normative che si applicano altra cosa interessante che perché mi consente di ribadire un concetto è la responsabilità per la convenzione di Vienna prevede una sorta di responsabilità per i danni causati dal ritardo nella notifica di cosa cosa vuol dire la notifica ovviamente dell'evento indipendente dell'impedimento indipendente dalla volontà e che non si poteva ragionevolmente attendere come vedete scritto nell'articolo cosa vuol dire vuol dire che se io ho indugiato troppo a lungo perché volevo un po' fare il furbo prima di dire che c'era una causa di forza maggiore questo comunque è fonte di responsabilità magari non sarò responsabile per la non esecuzione ma ci potrebbero essere dei danni che subisce la controparte a causa della di questa mia condotta inerte vado veloce perché vedo che sono già le 11 e 50 e bisogna essere puntuali e anche perché poi lo trovate nuovi rapporti attenzione come vi ho detto una cosa sono i rapporti in essere una cosa sono i nuovi rapporti sui nuovi rapporti non avete scusa sui nuovi rapporti è necessario che vista la situazione di totale incertezza ci sia un intervento massiccio cosa vi consiglio io per questo intervento massiccio clausola prezzi se voi già mettete nel contratto una clausola prezzo siete a posto la clausola prezzo cosa vuol dire la clausola prezzo prevede che una parte può avere diritto a modificare dei prezzi all'occorrenza di alcuni eventi se non lo scrivete così se non soccorre i casi un po più estremi di eccessione velocità voi non avete nessun diritto rientra nella vostra area con una clausola prezzi potete fare e disciplinare come volete clausola prezzi per esempio in relazione all'aumento diminuzione del costo di materie prima in relazione alla fluttuazione del tasso di cambio oltre una soglia predeterminata in relazione a degli oneri fiscali in relazione dei costi di trasporto la clausola prezzo cosa prevede poi anche la modalità di revisione dei prezzi per esempio deve rincaro deve durare per due mesi le soglie dei minimis che vuol dire io cambio il prezzo solo se il prezzo aumenta più del 5 per cento l'automaticità o meno dell'aggiustamento cioè siccome il prezzo è cresciuto del 5 per cento allora anche diciamo del prezzo dell'acciaio sui mercati è cresciuto del 5 per cento allora anche il mio contratto cresce del 5 per cento oppure siccome è cresciuto del 5 per cento io posso rinegoziare e anche le conseguenti in caso di mancato raggiungimento di un accordo nel caso in cui ovviamente la reimputazione non sia automatica la clausola di hardship che è la tipica clausola all'inglese che si inserisce proprio perché la normativa inglese per legge non prevede non prevede né l'eccessiva risultata sopravenuta né l'impossibilità sopravenuta della prestazione quindi c'è una vasta tutela sulla clausola di hardship che è diversa in parte dalla forza maggiore nel senso che la forza maggiore prevede si dice così degli eventi tipizzati guerra pandemia alluvione terremoto inondazione cambio di governo eccetera eccetera la clausola di hardship invece prevede all'insorgere di una serie di eventi che alterano il significato del rapporto contrattuale che a questo punto possono essere anche gli aumenti di materie prime che tendenzialmente non sono una causa di forza maggiore ma sono una clausola di hardship io posso rinegoziare voi dite che differenza c'è tra il prezzo e questa il prezzo parametra rispetto come dire a dei dati oggettivi il cambio rublo che abbiamo visto diciamo che per esempio le sanzioni sono servite molto fino a un certo punto o il prezzo dell'acciaio qua invece stiamo dicendo rincaro dei trasporti elementi che sono meno come dire automatici tipica di clausola hardship viene ho messo qua un un come dire esempio clausola di forza maggiore che come ho detto può rilevare per legge ma è opportuno prevederla al contratto anche per disciplinare puntualmente a quali eventi si riferisce esempio impossibile reperimento di un materiale in un determinato territorio contrattualmente si possono anche stabilire quali siano le clausole le conseguenze dell'insorgere la clausola di forza maggiore perché come vi ricordate che l'impossibilità sopravvenuta che è come dire quella che riassume forza maggiore factum principis a seconda delle definizioni che diamo la l'impossibilità sopravvenuta porta alla risoluzione noi qua potremo invece essere tentati di andare alla rinegoziazione altra clausola di forza maggiore fondamentale nei nuovi contratti è prevedere come risolverete le controversie future arbitrati mediazioni ne abbiamo già un po parlato nel nostro seminario sul contenzioso quindi vado veloce altri contratti clausole di consegna clausole di limitazione di responsabilità indipendentemente da tutto in questi tempi uno può avere piacere a dire sì io ti vendo un prodotto ma la mia responsabilità è nel massimo del valore del prezzo di quel prodotto collegamento contrattuale sì ti vendo l'acciaio ma sappi che l'acciaio lo sto comprando dal Brasile a queste condizioni garanzie contrattuali come vi dicevo garanzia di adempimento dei pagamenti come per certi versi in parte vi ha già detto Andrea la questione dei pagamenti si sta complicando un poco è il momento forse anche di capire che la solubilità di una controparte potrebbe essere un po' in discussione quindi cerchiamo di tutelarci una garanzia di una casa madre una fideiussione anche l'intervento di un terzo all'interno del rapporto contrattuale chiudo con l'ultima questione che vi sottolineo su cui Alina in parte prima vi aveva già detto che c'è una raccomandazione della commissione europea se non sbaglio che prevede diciamo raccomanda che nei vostri contratti ci sia una clausola sanzioni cioè nei vostri contratti per evitare problemi futuri voi cominciate a scrivere una clausola del tipo questo cosa vuol dire che voi quando vedete a uno spagnolo piuttosto che a un cinese proprio per evitare in futuro o comunque limitare in futuro i rischi che qualcuno vi dica eh mai venduto al cinese ma sapevi che andava al russo o come diceva Andrea che è esperto di sanzioni dai tempi dell'Iran se voi vendete all'arabo e dovete sapere che non andava a finire all'iraniano questo tipo di clausole sono totalmente nuove e può essere utile specificarli in questo caso come abbiamo detto abbiamo aggiunto anche United Kingdom e United States sappiamo ovviamente che non stiamo parlando dello stesso che non stiamo parlando dello stesso mondo nel senso che United Kingdom e UK sono delle scelte per certi versi come come diceva Andrea prima non è detto che il per forza di cose noi dobbiamo riferirci alle sanzioni USA che non hanno un effetto cogente per l'Unione Europea al di là del loro allineamento di questo momento certo c'è sempre una componente di opportunità commerciale perché il rischio di perdere i rapporti con gli Stati Uniti che era tipico nel nel contesto iraniano ricordo bene con Andrea perché nel contesto iraniano c'era molto più disequilibrio tra la sanzione US e la sanzione europea ovviamente va tenuto in totale ehm considerazione ho fatto una carrellata un po' veloce mi sembra che siamo in chiusura visto che a mezzogiorno c'erano mi siamo un paio di domande quindi Viviana ti ti invito a riattivarti per gestire quest'ultima parte rimango appunto della la questione secondo me fondamentale che vi abbiamo portato oggi per fare una sintesi è questa la Russia come diceva Andrea come vi ha fatto capire Alina è in questo momento un territorio nel quale operare è estremamente complesso anche perché alcune normative sono evidentemente per ovvie ragioni non di facilissima interpretazione perché comunque c'è un tema mi piace dire anche etico personale di capire cosa cosa si vuol fare ma senza dubbio prima di operare con la Russia oggi qualsiasi azienda si pone il problema poniamoci il problema secondo me anche per gli altri mercati perché è necessario comunque implementare degli strumenti speciali in questo momento per gestire quegli altri mercati in conseguenza del complessivo contesto geopolitico economico e finanziario mondiale